L'estensione del Green Pass al mondo del lavoro ha fatto aumentare le richieste e le somministrazioni di prime dosi anche in Toscana. Anche se ormai da giorni è possibile ricevere le dosi presentandosi direttamente negli hub, negli ultimi giorni, attraverso il canale tradizionale, si è passati dalla media di 700 prime dosi prenotate a 3.200, a cui si devono aggiungere quelli che non sono passati dal portale regionale. La tendenza, insomma, è quella di una nuova ripresa della campagna vaccinale, che già vede la Toscana ai vertici tra le regioni italiane per adesione. Nella nostra, infatti, l'86% dei cittadini over 12 ha ricevuto almeno una dose. E mentre c'è chi soltanto adesso ha deciso di rompere gli indugi, ci si prepara la somministrazione della terza dose. Le modalità saranno diverse, almeno in questa prima fase. Pian piano verrà smantellato il sistema degli hub, cambio di pagina, che potrebbe arrivare anche prima del previsto. Questo per ragioni economiche. Ai conti della sanità toscana, si legge sulla nazione, mancherebbe quasi mezzo miliardo. Il governatore Gianni chiederà un aiuto al governo, mentre i vertici della sanità avrebbero redatto un piano di rientro. Taglio da 100 milioni alla spesa per i prossimi tre mesi per l'Asla Toscana Centro, 50 per ciascuna delle altre due Asla. Cifre più piccole per le aziende ospedaliere universitarie. Tra le conseguenze, anche la chiusura anticipata degli hub vaccinali, nonostante l'effetto Green Pass abbia fatto lievitare il numero di vaccinazioni. Il Mandela Forum, per esempio, che avrebbe dovuto chiudere il 30 di novembre, fermerà l'attività con un mese di anticipo. Grazie a tutti.